Ciao, benvenuti in uno spazio Mio Podcasting Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile Questa è la stagione 4 In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto Nuovi Podcast da aprile 2020